Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone Ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni si mise a gridare Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio Ma egli non le rivolse neppure una parola Allora i discepoli gli si accostarono implorando Esaudiscila, vedi come ci grida dietro Ma egli rispose Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele Ma quella venne e si prostrò dinanzi a lui Dicendo Signore, aiutami Ed egli rispose Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini È vero, Signore Del Signore A seguito della moltiplicazione dei pani Tutti gli evangelisti si raccontano Che Gesù congeda la folla e congeda anche i discepoli Li costringe, diciamo così, li manda ad attraversare il lago La folla se ne va, i discepoli vanno sulla loro barca Sulla barca di Pietro di solito si dice E attraversano il lago E Gesù rimane da solo a pregare sul monte Un tratto distintivo questo dell'apostolato di Gesù Gesù non era sempre con la folla o sempre con i discepoli Era anche da solo A tu per tu, cuore a cuore, con il padre Se ne stava lassù, venuto la sera, da solo Dice Matteo Perché ha bisogno di questo contatto col padre Come ne abbiamo bisogno noi Ha bisogno perché le sue parole non siano solo sue Ma siano le parole di Dio Perché i suoi gesti siano i gesti di Dio Anche noi abbiamo bisogno di questo contatto personale, individuale con il padre E mentre Gesù è solo E sembra, diciamo così, aver abbandonato le folle e i discepoli I suoi discepoli attraversano il lago con grande difficoltà Si scatena una tempesta Sappiamo che le tempeste di lago sono terribili Molto pericolose E Gesù, in mezzo alla tempesta, li raggiunge camminando sul mare Non è solo così una specie di gioco di prestigio Per dire, guardate cosa so fare È anche qui una rivelazione Perché il mare nella Bibbia, le grandi acque Qui è un lago, ma viene chiamato il mare di Galilea Le grandi acque sono sempre segno negativo Sono segno delle forze distruttrici della creazione Del caos primigenio che vuole distruggere ciò che Dio ha creato Israele non è stato mai un popolo di navigatori Ha sempre avuto un rapporto difficile con il mare Pensiamo al Mar Rosso E allora Gesù che cammina sulle acque indica proprio questa potenza Di chi può sottomettere il male Sottomettere il negativo Dominare tutte le forze distruttive della vita Matteo solo aggiunge però la scena di Pietro Gesù arriva vicino alla barca Dicendo quelle parole bellissime Coraggio, sono io, non abbiate paura E qui Pietro interviene con il suo solito entusiasmo Signore se sei tu fa venire anche me sulle acque Vieni Pietro E qui c'è questa scena bellissima che rappresenta Secondo me la fede Che cos'è la fede? La fede è camminare sulle acque Sulle acque in tempesta Cioè fare una cosa fuori dal razionale Fuori dall'ordinario Ma è possibile finché Pietro ce la fa Finché guarda Gesù Nel momento in cui guarda Gesù Pietro cammina sulle acque Ma nel momento in cui si guarda intorno Vede il vento, vede le onde Sta forse razionalizzando e dicendo Io sto camminando sull'acqua, cosa sto facendo? Ecco che Pietro va giù Nel momento in cui distogliamo gli occhi da Gesù E guardiamo noi stessi Le nostre piccole forze Le nostre cadute Le nostre difficoltà E basta Allora andiamo giù Ma appena Pietro grida Signore salvami Subito Gesù lo afferra Come afferra ciascuno di noi quando glielo chiediamo Magari con quel rimprovero Uomo di poca fede Perché? Hai dubitato Ecco che si sta parlando di fede Uomo di poca fede Anche noi siamo uomini di poca fede Ci facciamo impressionare dalle tempeste della vita Ma teniamo fisso lo sguardo su Gesù Guardiamo Lui E saremo capaci Di camminare sulle acque in tempesta Della nostra vita C'è anche Lui sulla nostra barca C'è anche Lui che ci invita A camminare insieme E so che ci vengono E so che ci vengono Anche noi siamo uomini di fede E so che ci vengono Sia Della nostra barca Ci invita C'è anche un frasso Ci vengono C'è anche un frasso Sia Sia Della nostra barca